Nell'ambito del Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio, ha debuttato in prima nazionale a Galleria Toledo, Lusi e le altre, di Laura Angiulli. Ispirato alle figure femminili delle opere di Philip Roth nell'America, tra gli anni 50 e 70, tre protagoniste emergono da tre opere di narrativa dello scrittore statunitense, prendendo forma in uno scenario di straordinaria virulenza emotiva e retorica. Sentiamo la regista Laura Angiulli che ci accompagna in un viaggio scenico accattivante. Devo dire che è stato un piccolo combattimento, perché veramente, però è un autore con, insomma, diciamo, secondo me è un autore di una ricchezza talmente strepitosa, insomma, diciamo, che è anche difficile poi non riuscirci. Chiaramente, insomma, io ho una grande, ormai, consuetudine, no? Perché io lavoro da moltissimi anni sull'opera scespiriana. E questo mi ha dato ormai un metodo, che è quello di, come dire, portare a sintesi. Il primo spunto mi è venuto da quando lei era buona, questa figura, ecco, di tipo veramente scespiriano, cioè questa giovanissima donna che muore, cioè porta avanti la sua indignazione e la sua incapacità di accettazione di una realtà, diciamo, non rispondente, poi, diciamo, alla completezza di un progetto di vita che sia anche sostenuto da un'etica e quindi dalla serenità, della giovinezza, perché è un personaggio molto giovane, e si lascia andare in questa strenua resistenza fino alla morte. Un'etica